Quando saranno chiuse le capi ti darete ragione a noi quello che si diceva perché lei è scomparsa lei è scomparsa è andata via da sé e invece qui si parla di altre cose che sono fuori luogo Se dico che lei è andata via da sé vuol dire che ciò degli elementi ma ce l'hanno anche la durità questi elementi solamente un mantenuto di conto ma è senza soldi senza cellulare senza vestiti E' andata via probabilmente con una persona che c'ha l'arcelonare e ce l'ha soldi Con un altro uomo? Penso, si pensa a questo perché diversamente non sarebbe pensato Il problema è questo, manca mia moglie e si fa di tutto per fare del male a me e non me ne frega niente a questo punto, ai miei figli Che venga a trovare mia moglie e non si trova